La relazione tra Edoardo Tavassi e Micolin Corvaia sta procedendo ad alti e bassi all'interno della casa del GF VIP. In molti sperano che tra i due la storia possa decollare, anche perché per diversi spettatori rappresentano una coppia ben assortita. Ad ogni modo, in queste ore una, ex, di Edoardo, ha rilasciato un'intervista in cui ha svelato cosa pensa di questo legame. La relazione tra Edoardo La relazione tra Edoardo La relazione tra Edoardo Edoardo Dopo tutto Tavassi era entrato nel programma proprio con l'intento di innamorarsi. Dopo aver parlato della faccenda, poi, Mercedes Schengel, ha parlato anche della sua vita sentimentale. A tal riguardo, ha detto di essere legata da quattro mesi a Nico d'amore. Tutto è nato a seguito di una collaborazione organizzata da una sua amica, e da quel momento in poi non si sono più separati. Anche mamma Eva è molto felice di questo rapporto in quanto vede sua figlia finalmente serena e tranquilla.